mister come andata la partita e salve buonasera niente partita pareggiata 2 a 2 abbiamo incontrato una bellissima squadra ben messa in campo esperta e noi in qualche modo dobbiamo cercare di migliorare perché abbiamo con ingenuità subito due gol su su palla inattiva e quindi potevamo fare meglio in quelle situazioni però non mi lamento dai ragazzi mi è piaciuta la reazione perché per ben due volte siamo riusciti a riprendere il Prasar siamo andati di nuovo sotto e poi alla fine con convinzione e carattere siamo riusciti a raggiungere questo pareggio che secondo me sostanzialmente alla fine è anche giusto fermo restando e ripeto che abbiamo incontrato una bella squadra molto esperta noi più giovani più ingenui visto il pareggio di oggi come vede il proseguo della squadra per il campionato? il proseguo dell'obiettivo della stagione come dicevo ad altri anche sicuramente quello di migliorare la classifica dell'anno scorso quindi cercare di fare un campionato tranquillo e contemporaneamente valorizzare tutto questo parco giovani che la società Amaroni ha a disposizione e mi ha messo a disposizione quindi più o meno il campionato tranquillo e valorizzare i giovani in bocca al lupo siamo con mister Caracciolo del Prasar mister come vede questa partita? ma una partita maschia si sapeva che questo è un campo difficile purtroppo per il campo per com'è il campo limita sia tanto la Amaroni perché mister Costari fa giocare le squadre sia la squadra avversaria quindi era normale che usciva una partita del genere maschia bella combattuta fino all'ultimo secondo e così è stato ma già lo sapevamo l'avevamo messo in preventivo visto il pareggio di oggi come vede il proseguo per la sua squadra per questo campionato? ma noi l'avevamo messo in preventivo un mezzo pareggio qui ad Amaroni anche se eravamo venuti a giocare a vincerla perché comunque noi puntiamo tutte le partite a vincere non ci ridimensiona niente anzi continuiamo ad andare davanti a vedere partita dopo partita non succede niente è la prima partita di campionato abbiamo iniziato adesso dopo quasi un mese e mezzo di preparazione è normale che ci stanno queste cose errori nel finale posizione ma sono tutte cose alle prime partite fino alla terza sono tutte cose concesse quindi va bene così grazie